Una storia tutta calabrese. A Rosarno per la quarta volta il bando effettuato dal comune per assegnare dei beni confiscati all'Andrangheta locale è andato quasi deserto. Allo scadere del termine avvenuto ieri, solo una domanda è stata presentata, tanto da costringere gli uffici dell'ente e il dirigente d'aria a prorogare il bando per partecipare fino al 3 maggio. La paura e i timori nella città della Piana, e non solo, si fanno sentire tanto da non partecipare all'assegnazione di beni che potrebbero risolvere tanti problemi e creare e incentivare economia, fare impresa e lavoro, si dice in questi casi, in un'area geografica in cui la piaga della disoccupazione è traboccante. I beni da assegnare sono complessivamente 31, di cui 8 terreni agricoli, 22 fabbricati nel centro urbano, eppure un impianto sportivo. I terreni agricoli confiscati risultano coltivati a clementine, arance e kiwi. Dieci giorni fa, all'approssimarsi della scadenza del 18 aprile, il sindaco della cittadina Giuseppe Idà aveva lanciato un appello a tutti i volenterosi e a tutte le parti sane della società pianigiana. Il primo cittadino ha chiesto la mobilitazione a partecipare, con un sussulto d'orgoglio, al bando di assegnazione dei beni confiscati, anche in considerazione del fatto che i precedenti avvisi pubblici del novembre 2016 e del maggio 2017 non erano andati a buon fine. La tanta decantata società civile della Piana latita, ma le istituzioni però non fanno sentire la loro voce. A volte il cammino verso la legalità diffusa deve essere sostenuto e appoggiato da chi ha la forza e l'autorevolezza.